In questo numero del Salus Tg, l'esperto Italia agli ultimi posti in Europa per interventi mini-invasivi con valvole salvavita. Rapporto PIT-Salute per i cittadini, medici di famiglia e pediatri sono meno disponibili. Osso nel pene scomparso nell'uomo, forse per monogamia. Tecniche mini-invasive che potrebbero salvare la vita ai pazienti con patologie valvolari, praticate però nel nostro paese con il contagocce. L'Italia, che alcuni anni fa era il secondo posto per numero di interventi, sta scivolando verso gli ultimi posti delle nazioni più evolute. Ogni valvola che noi facciamo è una vita salvata. Noi, che abbiamo una tecnica che, essendo non chirurgica, ci permette di fare la stessa procedura di sostituzione valvolare con un rischio che è assolutamente basso nel nostro centro, quest'anno, 2016, noi abbiamo fatto 70 valvole con mortalità zero. Medici di famiglia e pediatri meno disponibili, secondo i cittadini, che si sono rivolti al Tribunale per i diritti del malato, cittadinanza attiva, per segnalare problemi nel rapporto con i camici bianchi del territorio. È quanto emerge dal diciannovesimo rapporto PIT-Salute. Le principali questioni riguardano il rifiuto di prescrizioni da parte del medico per il 28,4%, gli orari inadeguati di ricevimento per il 25,4% e la sottostima del problema di salute per il 17,9%. Rispetto ai maschi di altri primati, oggi gli uomini non sono più dotati dell'osso del pene, il baculum. Secondo uno studio britannico, quest'osso favoriva infatti i mammiferi maschi nella competizione per accaparrarsi le femmine, una situazione tipica dei sistemi poligamici. L'introduzione della monogamia avrebbe poi reso inutile la presenza dell'osso.